buongiorno e bentornati sul canale oggi è con immenso piacere che apro il giveaway del compleanno del canale ebbene sì care ragazze e cari ragazzi tre anni fa proprio in questo giorno andava online il mio primo video della presentazione quindi sono passati tre anni tanti video tante tante cose veramente belle perché io amo davvero interagire con voi con questi video spero che la cosa sia reciproca ma penso di sì perché pian pianino il canale è andato sempre crescendo quindi veramente credetemi sono emozionata infatti mi sono un po agghindata comunque per celebrare questo evento per me davvero tantissimo tantissimo importante allora il regalo che io oggi voglio mettere in palio è una cosa veramente molto semplice ed è questa palettina qui questa è sigillata quindi non vi mostro quella che arriverà a voi e anche perché tempo fa mi fu detto che erano belli di quei mettevi in palio però col fatto che aprivo la confezione facevo vedere facevo partire il pao e questa cosa effettivamente vera però oggi è capitato che il prodotto io lo possiedo a doppio in altri casi sono cose che io acquisto esclusivamente per voi o metto da parte per voi e quindi di conseguenza se è un pezzo unico comunque devo mostrarvelo però oggi vado a mostrarvi quello che è già il mio possesso e sto parlando della palettina della revolution make up quella della one million guardate questi sono i colori all'interno colori veramente bellissimi è una palette che è sfruttabilissima sia perdonatemi sia nel periodo estivo ma anche in tutto il periodo invernale all'interno c'è un grandissimo specchietto e quindi questa è la palettina in questo colore bellissimo rosa gold quindi non è nulla di così eccezionale però per me è un piacere enorme poter celebrare questo compleanno in genere ai compleanni si riceve il regalo invece in questo caso sono io che dono a voi perché comunque il canale è mio però ne fate parte tutte quindi è un regalo generale e quindi questo sarà appunto il l'omaggio per questo di qui allora le regole per partecipare sono semplicissime essere iscritte necessariamente al canale avere mi raccomando le iscrizioni visibili perché io quando vado a controllare poi se siete iscritti al canale io devo verificare quindi se avete la privacy sulle iscrizioni gentilmente toglietela è molto semplice poi lasciare un like a questo video e commentare con un commento di senso compiuto quindi non soltanto con partecipo e basta magari lasciate un commentino anche su ciò che vorreste vedere qui sul canale su cosa magari vi è piaciuto di più se mi volete fare anche un appunto se c'è qualcosa che non va e vorreste che migliorasse quindi io accetto tutto mi raccomando quindi tre semplicissime regolette essere iscritti al canale lasciare un like e un commento di senso compiuto quindi poi se facoltativamente vorreste condividere anche su un social a piacere questo video mi vi fareste veramente felice nulla allora il video apre oggi che il 22 di luglio 2018 e durerà due settimane quindi chiuderò il giveaway domenica 5 così da far sì che il 6 io possa già girare il video dell'estrazione mi raccomando quindi partecipate in tante vi annuncio che volta poi arrivate anche ai 2500 ci sarà un giveaway veramente molto sostanzioso e questo è solo un piccolo omaggio per celebrare appunto questa data per me importante quindi mi raccomando iscrivetevi se non siete iscritti così aumenteremo di numero e quindi ci sarà anche un favoloso giveaway poi per i prossimi 2005 allora ragazze niente io come sempre vi ringrazio vi mando un grandissimo bacione grazie ancora per far parte di questa famiglia perché vi reputo una famiglia e niente happy birthday e jana carrieri channel